Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova avventura su GTA. Questa volta non sono nella vita da gangster, ma sono qui per annunciarvi che finalmente io e Gemini899 abbiamo deciso di iniziare una serie su GTA Online. In questo momento ovviamente sono da solo perché appunto sto per farvi questo annuncio. Niente, in questi giorni vedrete sicuramente qualche serie dove giocherò con Gemini e proveremo a cazzeggiare in giro per la città. Come vedete lì c'è questo tipo, vediamo di prenderlo ragazzi. Ok, non so se lui è forte. Ok, vediamo un attimo di rintracciarlo. Come vedete sta scappando in moto questo maledetto. E vabbè, più veloce di me perché sta in moto ragazzi. Comunque, vi stavo dicendo, dobbiamo, porteremo tantissime serie sicuramente. Perché GTA Online non ho mai giocato io ragazzi. Ho sempre giocato, cioè ho sempre giocato in single player. In questa sessione siamo un bel po' di giocatori come vedete ragazzi, quindi... E dobbiamo stare molto molto attenti. Oddio. Vai, ecco il negozio di munizioni. Abbiamo seminato anche la polizia. Eccolo qui, perfetto. Scendiamo e vediamo di comprarci qualcosa di pesante. E ciao. Allora, cosa puoi darmi? Vediamo un po'. Allora, queste costano un bel po' di soldi ragazzi, però vanno comprate. 11.000. Direi di provare con il fucile da cecchino. Ah, quest'articolo sarà sbloccato al rango 90. Wow. Fucile da attiratore, 11.000. E... Lo prendiamo ragazzi, eh. Caricatore esteso. Ok. Mirino ce l'abbiamo. Eh, impugnare... Vabbè. Per il resto lasciamo tutto di default. Ok. Abbiamo acquistato il nostro fucile, quindi vediamo un attimo se possiamo fare qualcosa. Ok, tipo ci appostiamo da qualche parte ragazzi. E li check-iniamo tutti. Ok, qui potrebbe essere comunque un ottimo punto dove check-inare le persone. Certo, dovrei mettermi tipo sui palazzoni. Ma... non lo so. Vediamo un attimo di aprire la mappa. Ok. Come vedete qui c'è qualcuno. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Ok, ucciso. Lol. Vediamo di prendere qualcosa. Vediamo se... Se aveva qualcosa addosso. Ah, non c'è niente da raccogliere, ok? Ok. Vabbè, sempre quello. Ok, in testa. Quindi questo qui diciamo sta in afficappa, raga. Sta spawnando sempre in questi punti, come vedete. Vabbè, andiamo avanti. Come vedete sta piovendo. Questo è il mio personaggio. L'ho fatto io così. Vediamo se possiamo salire su questi palazzoni. Che a me piacerebbe salire qui, ragazzi, e check-inare. Ok. Se mi fa salire in alto in alto, sono contentissimo. Perfetto. Forse ce la facciamo. C'ho anche la polizia che vorrebbe rincorrermi. Vorrebbe. Ok. Check-iniamo un po' dall'alto. Check-iniamo un po'. Guarda, fin dove arriva questo palazzo? È altissimo. Ok. Sì, da qui si possono vedere tantissime cose, ragazzi, eh. Abbiamo gente lì. Eh, ovviamente non si riesce a capire perché... Perché, diciamo, come vedete piove, ragazzi. Vedete c'è uno lì? Se scende lo ammazzo. Sì, l'ho ucciso, ragazzi. Mamma mia. L'ho ucciso da lontanissimo. Che kill. Che kill. Ok. Ora sta cercando di capire dove sto io. Dovrebbe spuntare adesso. Soltanto che comunque sono... In una postazione buona, ragazzi. Ok, vediamo se possiamo riprenderlo. Eh, mo scappa. No, vabbè. Mo' non posso riprenderlo più. Comunque avete visto che cavolo di kill, ragazzi. Da lontano, da lontano. Mamma mia. Voglio un attimo capire questo qui. Ok. Forse questo qua, ragazzi, vuole venire da noi. È un problema. Se venire da noi è un problema. Vediamo dove cavolo sta. Che devo prenderlo. Ok. Sta andando avanti. Sta andando avanti. Non mi vede. L'ho preso di nuovo. Maledetto. Ti ho preso di nuovo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ripreso di nuovo. Eccolo lì. Se ti riesco a prendere in testa. Sì. Preso. Ecco come cazzeggiare su altri giocatori. Qui c'è una macchina qui sotto, ragazzi. Eh. Quella è una macchina corazzata, come vedete. Ci potrebbe far del male. Eccolo di nuovo. Sì. L'avevo ripreso, ragazzi. Sì. Wow, ragazzi. Sono un cecchino. Sono un cecchino. Non c'è niente da fare. Sono un cecchino, eh. Mamma mia. Che kill. E questo non è niente, ragazzi. Per questo vi sto dicendo. Se volete che porti una serie con Gemini 899. E ci divertiremo tantissimo. Ok. Vediamo un'altra volta. Cioè, vediamo se sta spawnando di nuovo questo. Eh. Vabbè. Tanto non può dire niente. Devo stare anche attento alle persone che potrebbero comunque salire e ammazzarmi. Ok. Come vedete qui è tutto sotto controllo. La polizia c'è sempre. E vedete quella macchina azzurra? Sta trasportando un pacco. Soltanto che non posso ammazzarlo a questo. Come lo prendo? Ok. Vedete? Ci ho provato ma non possiamo fare niente. Vediamo un attimo i colpi. Eh. Li stiamo finendo, ragazzi. Li stiamo finendo. Quindi. Oddio. Vabbè. Questo qui è in passiva, come vedete. Non può fare niente. E ok. Quello non lo vedo più. Se vuoi piazzare una taglia sulla testa di un altro giocatore che ama l'estero. Vabbè. Non mi interessa. Sono costretto comunque ad uscire da qui, ragazzi. Abbiamo cerchinato veramente, veramente bene. Cioè. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Perché per uno che gioca da 10 ore a GTA Online. Veramente. Cioè. Ho fatto tantissimo, no? Ok. Vedete? C'è ancora quello che voglio un attimo raggiungere. Quindi andiamo un attimo all'armeria. Vediamo se possiamo ricaricarci di colpi. Tanto abbiamo... Gli abbiamo i soldi. E vediamo se possiamo raggiungere quello che sta fermo. Che abbiamo detto che non riusciamo a vedere. Ok. Mi devo anche comprare un giubbotto antiproiettili. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ok. Iniziamo a prendere il giubbotto. No. Le scappe no. Mi interessa. Ok. Giubbotti. Prendiamolo. Ok. Al massimo. Allora. Qua mi serve... Mi servono... Mi servono i colpi di quel fucile. Ok. Eh... Munizioni. Compriamo, compriamo, compriamo ragazzi. Ci servono le munizioni. Poi vediamo cosa possiamo comprare più. Qualcosa di economico. Cioè non voglio comprare cose... Costose. Ok. Questa lana che se ne frega ragazzi. Compriamola. E andiamo a combattere. Ora sono pronto. Ah, beviamoci anche un drink. Così almeno possiamo rigenerare la vita. Ok. Vediamo un po'. Vediamo se la rigenerà al massimo. Non so come chiamarlo questo personaggio. Sinceramente ragazzi. Vabbè che l'ho chiamato Tecno Escobar. Ma... Eh... Vorrei capire se... Se dobbiamo chiamarlo in un altro modo. Questo che cavolo di fucile è? Ok. Mi piace, mi piace, mi piace. Vediamo se possiamo raggiungere quello. O altra gente. E vediamo un po' cosa possiamo fare. Le fucile da cecchino abbiamo tantissimi... Eh, ma perché mi buttate sotto? Allora, comunque abbiamo... Abbiamo tantissimi colpi nel fucile da cecchino. Soltanto che adesso non mi voglio mettere a camperare. Vediamo un attimo se possiamo prendere qualcuno. Ok. Comunque la cosa che rimpiango è che non posso mettere le mod nell'online. Peccato perché come vedete qui non c'è la grafica. Non posso metterla. Altrimenti... Vengo bannato. Ok. Vediamo un attimo la mappa. C'è quello lì ragazzi. Ma secondo me sta giocando in passiva. Vedete? Eh, questo sta giocando in passiva. E non possiamo colpirlo. Vediamo se ci sono altri giocatori... Diciamo... Ok, ci sono altri giocatori ragazzi in giro che possiamo colpire. Facciamo quest'ultima azione. Vediamo un attimo se possiamo ammazzare qualcuno e poi ci salutiamo. E mi dite voi se possiamo continuare questa serie. Dove cavolo sono questi? Ah, è dritto, è dritto. Va bene, vediamo. Ovviamente ci sono persone forti ragazzi. Io sono stato sculato lì. Quindi... Cioè non è detto che io ammazzo tutti adesso. C'è possibilità che qualcuno possiede tipo un fucilazzo estremo, il minigun. E per me poi è la fine. Come vedete c'è qualcuno qui ragazzi. Nello Santos Custom. Credo. Eh, vediamo un attimo se possiamo prenderlo. Ma stanno sparando. Dove cavolo sta questo? Ok, voglio andare a piedi ragazzi. Voglio andare a piedi. Devo capire questo dove sta. Dovrebbe stare qui sulle scale. Vediamo. Vedete, vedete, vedete. Avete visto dove sta ragazzi? Avete visto dove sta? Lui non ci ha visti. Non ci ha visti lui. Quindi non può fare niente. Però se si butta è la fine. Se si butta è la fine. Vediamo cosa pensa di fare. Ok, noi mettiamoci qui, mettiamoci qui. Lui farà il passo falso, secondo me. Vedete sta sopra. Eh, mi porrebbe ammazzare ragazzi. Se è forte mi porrebbe ammazzare. Vedete sta sopra. Dove cavolo sta questo? Oddio, chi sta sparando? È lui, è lui, è lui. Eh, vabbè ragazzi, è stato forte questo. No, l'ho ucciso. L'ho ucciso ragazzi, ci siamo uccisi a vicenda. Ci siamo uccisi a vicenda. Ho ucciso il vicepresidente. Oh mio Dio. Vediamo un attimo di arrivare al punto della morte. Che ci sarà sicuramente anche lui. Oh mio Dio ragazzi. Abbiamo ucciso il vicepresidente. Vedete sta arrivando di nuovo. Fatti vedere. Mamma mia ragazzi. Bastardo, non puoi fare niente. Bastardo. Mamma mia ragazzi. Voglio un attimo capire questo che livello è. Vediamo un po'. Quello che sto ammazzando. Dove cavolo sei? Amico mio. Devo capire che livello sei. Potresti essere pure un livello basso. Non riesco a vederlo ragazzi nella chat. Non lo vedo. Livello sessanta ragazzi. Comunque lo stiamo sterminando. Avete visto che cavolo di kill che abbiamo fatto. Bam, bam. In testa, in testa. Wow ragazzi. Una kill bellissima. Una kill veramente, veramente bella. Ok. Mettiti così. Rigenerare la vita. Vediamo se abbiamo il gibbotto. Ma che cavolo mi sta sparando? La polizia dai. Pure la polizia adesso. Ora mi ritiro. L'ho ucciso una volta. L'ho ucciso la seconda volta. Adesso mi ritiro. Perché non voglio fare queste... Come dire... Non voglio competere con quello. Se... L'ho ammazzato una volta? Basta. Sei in hub. Ok ragazzi. Andiamo in giro. Comunque quello era il vicepresidente di qualche attività. Io ovviamente non conosco GTA Online. Quindi... Ok vedete c'è uno lì ragazzi. Bam. Se lo prendevo così ero contentissimo. Comunque vediamo di rubare questa macchina. Facciamo l'ultima azione e poi andiamo via. Vai vai vai. Tanto il vicepresidente l'abbiamo ammazzato. Vediamo se possiamo prendere qualcuno. Ok. Come vedete sta scappando quello. Quello si era nascosto. Voleva. Non ci posso credere ragazzi. Sono veramente soddisfatto. Di quella kill. Ok. Come vedete sta un tipo qui. Eh ma come lo prendo a questo? E sta anche... Sta anche... Lo stanno inseguendo anche la polizia. Ma che cavolo possiede questo che va così veloce? No. Eh vatti polizia che devo passare. Fortuna che non c'è la benzina qui ragazzi. No. Sono stato scemo a sparare ragazzi. Sono stato scemo. Ok. Comunque quello sta lì. Come vedete. Ok. Ma che faccio con la pistolina? Non faccio niente ragazzi. Non posso fare niente con la pistolina. È troppo... No. Sì lo sto prendendo ragazzi eh. Vai vai vai. Tanto non... L'ho preso. L'ho preso ragazzi. L'ho ucciso. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Ah ah ah. Sì. Sì maledetto. Ti sei morto. Ragazzi sto seminando il panico. In questa sessione. Vai prendiamo anche questo maledetto. Vediamo se vuole competere contro Lord Tecno. Sta nello gippone se non sbaglio. Ha capito ragazzi. Ha capito. Vai prendiamolo. Lo sto prendendo. Non è la macchina blindata. Dai. Ok. No. Non ti fermare. Non ti fermare. Prendiamolo. Sì. 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 Ammazzato. Vabbè questo potrebbe ammazzarmi ragazzi. Ok. Scappiamo. 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 Vabbè basta. Basta. Ok ragazzi. Io finisco il video qui. Ditemi cosa ne pensate. E dai. Ciao ragazzi.